È un po' avvilente venire tutte le volte a fare la parte dello sconfitto in questo modo qua. Però bisogna fare un'analisi e è giusto farla. Mi ha giocato con Venezia e il dato di fatto è che noi partiamo sempre handicap, voglio arrivare lì. Andiamo sempre sotto di 10, di 15. L'abbiamo fatto con Venezia, poi a due minuti dalla fine eravamo pari. L'abbiamo fatto con Reggio Emilia uguale, l'abbiamo fatto con Avellino uguale. La spiegazione che ci siamo dati credo sia abbastanza semplice. Noi abbiamo bisogno di un quartino almeno per cominciare a giocare al ritmo che queste squadre hanno di allenamento durante la settimana. Noi non possiamo ricrearlo durante la settimana. Non è un alibi, è un dato di fatto. A questo punto ce ne siamo accorti che è veramente questo. Perché noi ci alleniamo sapete come e il ritmo che poi ci impongono squadre con questo tipo di roster non è quello che ci appartiene. E ci perdiamo un po' di tempo dietro. Nel frattempo loro vanno avanti i 10-15 punti, poi noi abbiamo doti morali, doti tecniche, torniamo sempre in partita. Ma una volta che ci gira giusta non c'è. Se ci fate caso, l'unica partita che abbiamo giocato punto a punto dall'inizio alla fine, nell'ultimo periodo, è stata quella con Pesaro. Dove fortunatamente abbiamo battuto una diretta concorrente. È l'unica squadra di questo lotto che ci assomiglia un pochino perché c'è il roster un pochino più corto, più somigliante al nostro. Questa è un'analisi dalla quale non si scappa. È una situazione che ci teniamo anche le ultime due settimane. Quindi la cosa che ci deve dar fiducia è che alla fine con squadre che occupano i primi posti della classifica, noi ce la giochiamo fino alla fine. Questo sì. È ovvio che dobbiamo partire meglio. Questa è la cosa principale da correggere, da cambiare. Come? È una bella domanda. Studieremo qualcosa. Studieremo qualcosa.